CECITÀ La cecità condanna se stesse all'oblio come il dubbio di Tommaso di fronte alle piaghe di Cristo, il dubbio di chi non sente ciò che si vede nell'anima, negli occhi innamorati di una donna o di un uomo, di chi non sente ciò che si tocca con mano, le labbra inchiodate alle labbra.